Ciao Leale, com'è andata la partita? La prima partita è iniziata benissimo, abbiamo avuto la meglio sulla Germania, siamo partiti un po' tesi, però man mano che abbiamo preso la mano e abbiamo iniziato a conoscere la squadra, abbiamo iniziato a capire dove tirare, su chi tirare, anche noi ci siamo messi un po' più a nostro agio per vincere. Quindi è andata più che bene il primo match.